Prende il via la gara per i lavori finalizzati a rendere più sicuri i 15 chilometri della strada provinciale 23 nel Nisseno, nel tratto Serra di Falco Montedoro. È un intervento finanziato dalla struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico presieduto dal presidente della regione siciliana Renato Schifani, che sottolinea la necessità di avere collegamenti funzionali e con i più alti standard di sicurezza. Il nostro obiettivo, dice il governatore, è quello di utilizzare nel migliore dei modi le risorse finanziarie disponibili. Il Dipartimento, guidato da Maurizio Croce, ha pubblicato il bando con un importo di circa 2 milioni di euro e al quale si potrà partecipare presentando la domanda entro il 16 gennaio 2023. Si chiude così il cerchio su una vicenda che tanti disagi e rischi ha creato all'utenza del comprensorio in un versante problematico con pochi percorsi alternativi e nel quale si sono verificate negli ultimi 15 anni, frane e cedimenti del terreno che hanno danneggiato in modo prevalente l'asse viario. Le soluzioni tecniche individuate nel documento progettuale, curato dall'amministrazione comunale di Montedoro, consistono in opere di sostegno in quei tratti in cui si è registrato un sensibile abbassamento della carreggiata. Sono previsti inoltre interventi di pulitura e la realizzazione di banchine con funzione di scarico delle acque piovane, oltre l'abitumatura delle parti di strada ammalorate e il rifacimento della segnaletica. Saranno infine costruite delle gabbionate per drenare le acque superficiali provenienti da monte e verrà ripristinato e ammodernato il piano viabile.